Ah, ma adesso prendi subito un po' a guarda. No, nessuno. Dentro la pancia va bene, ando così. No, è lo stesso, non si vede. Non sapevo anche io. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ma come va? sta venita io rimango staccata qua se lui fa così io non vengo giù non l'hai presa l'acqua gratiscio ho 10 euro io lo faccio siamo 10 euro mania bianca con l'acqua cos'è che andava adesso? dai Laura che lo spierta da qui dai Laura dai Laura sono proprio delle bestie siete degli animali allora abbiamo fatto 12 chilometri e 3 di cui 15 di salita a Treburroni si vede la croce 14 chilometri comincia ad essere dura adesso sono 16 chilometri no veramente sono cioè non ne ho più quindi niente li ho persi ci danno mani vai a casa a Renzo quando si è reso conto che non ce la faceva hai tornato indietro non ha fatto il tappo perché non l'hai tenuto le mani con gli anziani scusa voglio tranquillo oh chi è che mi ha detto non fidare? te ma tu com'è? avevo ragione o no? no dai non si fa non si fa non si fa chi? Sì, 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 sì. Grazie a tutti.